buongiorno alessandra scusa ti ho rubato la parola ti ho rovinato i piani quando ti abbiamo scritto pensavamo di trovarti a berlino e invece ci hai fatto una sorpresa perché ci hai detto ma non sto più a berlino ma sto ecco quindi vorrei partire un po da questa da questa storia insomma tre paesi tre partite iva raccontaci un po com'è successo e come e come fatto sì ormai a dire la verità quando mi presento soprattutto una folla come quella del freelance camp di oggi forse mi dovrei presentare come aprittore seriale di partite iva in paesi esteri non so se c'è un altro modo migliore e non lo faccio apposta è che in realtà è uno dei punti che che toccheremo insomma nella chiacchierata di oggi è una cosa che mi sta molto a cuore nel senso che in altri speech ho già sentito l'importante è sempre fare quello che ci piace quello che vogliamo diventare e quindi niente maniera diciamo un po romantica io ho sempre seguito il cuore mi sono trasferito ogni volta che ce n'era bisogno e niente questo è il punto di partenza perché sono venuto a scusa ad atene e mi ero rotto le scatole di berlino detto chiaro e tondo lo so che la parola parole grosse a dire ma diciamo che insomma il ciclo di berlino era un pochettino finito almeno per quel che mi riguarda e quindi mi sono semplicemente spostato al allo stadio successivo del della mia carriera diciamo partiamo dall'inizio perché tu comunque prima di andare a berlino avevi la partita iva anche in italia esatto le varietà di questa di questa storia raccontaci un po' esattamente io ho incominciato qualcuno magari si ricorda del tra chi ci ascolta che ero tre fotografi del freelance camp secoli e secoli dietro facevo quello infatti di lavoro e infatti comunque una delle cose più grosse che ho imparato all'inizio e che avere solo partita iva e cominciare da zero credo che sia una storia con cui tutti si si rapportano è veramente complicatissimo un sacco di ostacoli non ti conosce nessuno devi costruire fiducia con i clienti fiducia in te stesso anche molto banalmente e questo è stata una delle secondo me i primi momenti di illuminazione almeno per me stesso perché c'è sempre almeno io ho un pochettino sentito dentro di me questa non voglio dire stigma ma magari questo questa scelta di campo da prendere cioè o si diventa freelance o si fa il dipendente per tutta la vita e la verità è che appunto almeno per quel che mi riguarda non è assolutamente così cioè è necessario utilizzare le due forme in a seconda di quello che siamo ora e adesso il lavoro che faccio oggi probabilmente non sarà il lavoro che faccio che farò domani che farò tra un anno che so io quindi in realtà una delle prime cose che voglio far passare e utilizzare la partita iva l'essere freelance oppure il lavoro da dipendente soprattutto per il dove voglio arrivare domani voglio dove voglio arrivare tra cinque anni dove voglio arrivare tra una decina d'anni cosa che infatti ho fatto perché appunto quando era 2017 ho deciso di fare i primi bagagli e di trasferirmi a berlino dove ho trovato lavoro ho incominciato a lavorare per shopify insomma è però già appunto dopo i primi quattro mesi da lavoratore dipendente mi mancava un pochettino la flessibilità che mi consentiva di avere il fatto di essere freelance e infatti mi sono subito informato per capire come poter fare per continuare a esserlo in qualche maniera per fortuna la germania consente di avere di aprire una partita iva oltre al lavoro dipendente non lo so magari succede anche in italia ma è da talmente tanto tempo che manco che non non mi sono mai più interessato vantaggi ovviamente è utilissimo per costruirsi chiamiamolo i piani b backup plan come vogliamo come preferite avere una rete di salvataggio in qualche maniera ma non solo sempre in ottica di dove voglio arrivare domani tra dieci anni tra cinque anni è anche utilissimo per sperimentare cose nuove cioè la cosa essenziale dell'essere freelance è che non devi necessariamente darti una forma cioè devi necessariamente seguire una definizione e quindi la cosa importante dal mio punto di vista è sempre stata sfruttarlo al più possibile infatti mentre ero appunto mentre avevo partita iva a a berlino è proprio quello che ho fatto è quello che un pochettino suggerisco a tutti quanti provate cose nuove sbagliate imparate prima o poi qualcosa succede di buono sicuramente mal che vada imparate imparerete qualche cosina ma soprattutto piano piano appunto vi costruite parallelamente al vostro percorso da dipendente insomma posto fisso una seconda casetta che prima o poi servirà a qualcosa che siano contatti che siano clienti che siano soldi che mettete in banca insomma qualunque qualunque genere di cosa quindi lavorare i piani b e imparare a fare anche ad assumere diversi ruoli in germania tu hai lavorato anche come dipendente lo facevi se ricordo bene per shopify o comunque per una società collegata ai si e da freelance continuare a fare il fotografo e no in realtà in realtà no perché le cose che stavo imparando proprio in quel momento in quegli anni sostanzialmente in in germania erano frutto appunto del lavoro da dipendente che facevo cioè il produttore video ho lavorato per tirare sul canale di shopify a livello che è arrivato e quindi molto banalmente ho detto ma perché non posso utilizzare tutte queste conoscenze per aiutare altri clienti che hanno magari bisogno di lavorare al proprio canale youtube che magari interessa fare una cosa del genere e logicamente una cosa che come dipendente non avrei mai potuto fare e quindi la la cosa è stata automatica ok come faccio a mettere tutto questo in pratica semplicemente tramite questa partita io ora vabbè vi butto lì un dettaglio tecnico assolutamente inutile però così in realtà la germania secondo me funziona abbastanza bene da questo punto di vista perché c'è se non sbaglio un tetto di fino a 17.500 euro per cui non c'è la necessità di alcun regime fiscale iva quindi non devi emettere cioè devi emettere fattura logicamente non devi metterla con l'iva ma almeno eviti di pagare l'anticipo per riaverla indietro e quant'altro torna comodissimo proprio per tutte quelle volte tutte quelle occasioni in cui stai incominciando a muovere i primi passi quindi non sai se questa cosa andrà avanti per un mese un anno dieci anni tutta la vita ed è una cosa che io ho apprezzato moltissimo anche perché poi appunto molto banalmente nel periodo della pandemia i clienti che avevo hanno voluto insomma tagliare un attimino le le mie consulenze nessun problema si sopravvive lo stesso va avanti lo stesso questo proprio che ti non mi porta al prossimo punto che poi in realtà di cui in realtà ne avevo già parlato quello dei piani di backup di backup plan avere queste due strade parallele che vanno avanti da sole aiuta moltissimo perché se un giorno vuoi staccare la corrente a una sai già che dall'altra parte hai qualcosa di costruito non devi partire da zero quindi non c'è la paura della spostarmi magari in un posto nuovo non conosco nessuno lavoro trovare lavoro nuovo quant'altro se non altro ti consente di arrivare di andare avanti di tappare un pochettino i buchi infatti io nel piena pandemia nella prima ondata ho deciso di cambiare lavoro e sono diventato product manager cambia lavoro come craft si direbbe in inglese e perché l'ho fatto molto semplicemente perché ne avevo voglia e perché ok potevo perché però perché mi ero costruito tutti questi backup prima che mi hanno aiutato arrivare in quel momento e non avere la pressione di c'è la pandemia devo assolutamente trovare la maniera di arrivare sbarcare lunari arrivare a fine mese ma cosa succede tra un mese tra due mesi e quant'altro con molta sincerità ho cambiato posizione internamente in realtà dentro Shopify che sì bene facile un po più facile la verità è che poi comunque sei mesi dopo che hai incominciato hai la tua prima performance review che significa che comunque non importa quanto all'inizio sei devi aver già dimostrato quello quello che vali quindi un po più facile ma comunque non semplicissimo quello che ho fatto poi a questo punto è costruire un altro genere di backup dal punto di vista però in questo caso della lingua nel senso che in quel periodo lì era quando personalmente mi ero un pochettino reso conto di non voler restare più per troppo tempo a berlino di muovermi verso un'altra città che non sapevo quale sarebbe stata in realtà ma sapevo che dentro il cuore avevo un pochettino sempre la grecia soprattutto atenea era un posto dove sono venuto spesso e volentieri e quindi per non per sbaglio per scelta ho incominciato molto banalmente a imparare il greco credo che ci sia un motivo ben ben preciso per cui e alessandra silvia tutti quanti abbiano scelto questa scaletta la lingua mi sento di riconfermarlo è una cosa una delle cose più importanti in assoluto una dei una delle cose che tra l'altro ho imparato sulla mia pelle la prima volta che mi sono spostato dall'italia è stato per motivi di studio in realtà sono andato in svezia stoccolma non parlavo una parola di svedese è stata durissima la seconda volta che mi sono spostato è stata appunto berlino ho rifatto lo stesso errore cioè non parlando non avendo mai studiato un briciolo di tedesco è stata anche abbastanza dura alla terza ho detto vabbè magari ho imparato qualcosa comincio prima infatti appunto è stato ad aprile quando mi sono spostato qua ad atene e devo dire che dopo due anni di aver studiato il greco aiuta tantissimo perché se non altro le interazioni day to day te le puoi gestire e poi man mano ti puoi allargare il tuo la tua rete di contatti tra l'altro non mi ricordo più prima chi aveva parlato del maura forse di fare volontariato assolutamente sottoscrivo io ho fatto la stessa cosa quando sono arrivato qua a maggio ho fatto un'esperienza di volontariato comunque sì la lingua aiuta tantissimo senti Roberto banalmente ma con i commercialisti come fai cioè come ti sei come te la sei capata con tutti gli aspetti amministrativi com'è cercare il commercialista a volte non è neanche semplice trovare il commercialista la commercialista giusti in italia e all'estero come funziona ci aggiungo la difficoltà ulteriore del trovare il commercialista che ne sappia di expat nel senso che molto banalmente hai bisogno di un commercialista che conosca se ci sono regimi agevolati come fare per aprire tutti i documenti fiscali del caso e infatti come dire ci tenevo anche a sottolineare che se pensate che il vostro marito o moglie sia la persona più importante della vostra vita in realtà no è il commercialista ma probabilmente lo sappiamo già tutti è difficile trovare un commercialista cioè buono soprattutto c'è poco da fare come sempre il passaparola e il sbattire la testa contro tutti i muri possibili funziona nel lungo nel lungo periodo è veramente non si non posso sottolineare abbastanza quanto sia importante trovare un commercialista che sia efficiente e che abbia un briciolo di empatia perché comunque mentre tutti sposti in un nuovo paese ci sono molte altre cose che devi affrontare altre difficoltà e quindi non necessariamente puoi dedicare tutto il tempo che dovresti a fare tutto quanto e poi vorrei anche dire una cosa noi abbiamo così quest'idea che il fisco italiano sia la cosa più complicata del mondo ma se vi capiterà mai di lavorare per gli Stati Uniti e di compilare il modulo WMF sai cazzo e combattere con le spiegazioni che vi dà l'equivalente del Ministero delle Finanze statunitense ecco vi tranquillizzerete subito perché c'è chi può rendere le robe più complicate che qui quindi diciamo molta stima per chi affronta tutti questi cambiamenti anche burocratici e amministrativi fuori mi chiedono quanto è stato complicato se volete pensare quanto è difficile fare quei documenti lì in greco esatto infatti Barbara chiedeva quanto è stato difficile imparare il greco ma allora una bella domanda devo dire la verità io tipicamente ci vado molto d'accordo con le lingue quindi tendere un po' a sottostimare non è stato improbabile sì ok l'alfabeto è diverso ma dopo un po' quello te la cavi lo impari la grammatica io la trovo ancora molto molto simile e ci sono un sacco di espressioni che io avendo studiato per tutta la vita inglese mi sono sempre abituato a non pensare in italiano e adesso quando parlo greco sto quasi cercando di fare il contrario cioè pensa in italiano a quello che vorresti dire perché nell'80% dei casi in realtà lo dicono allo stesso modo qua in Grecia una cosa che vi può interessare ve la butto lì io cerco di convincervi a venire qua in Grecia a vivere per i primi sette anni di expat a meno che non avevi un'altra azienda prima qua in Grecia se mai venuto si paga l'imponibile solo sul 50% del dell'income del reddito così è un sorpettario molto generoso cioè si pagano le tasse solo sul 50% dell'income e non è solo per i... cioè in Italia correggetemi se sbaglio è solo per il ritorno dei cervelli ma se sei... se arrivi da un altro paese forse no invece qua è per tutti beh dipende, dipende non so come sia per uno straniero lavorare in Italia con la partita IVA in Italia vabbè poi ci sono i vari regimi c'è il forfettario di cui adesso sembra che aumenteranno il limite fatturato da 65-85k e vabbè però ecco anche quello è un regime essendo forfettario viene... il reddito viene calcolato sulla base di... non ci sono i costi da scaricare ma c'è un forfè che viene stabilito codice a teco per codice a teco però... vale anche per il... per il lavoratore dipendente in realtà questa cosa qua no, i lavoratori dipendenti no sono quelli che sostengono i lavoratori dipendenti e diciamo le partite IVA come me che essendo socia di SRL non posso rientrare in nessun regime forfettario quindi come diceva stamattina Costa faccio parte di quel 15% dei contribuenti italiani che pagano le tasse per tutto il resto della nazione sostanzialmente esatto ahimè, ahimè, anche questa mi tocca quindi Roberto, se tu dovessi in qualche modo estrarre un insegnamento da questo percorso intanto ci saranno delle altre tappe? per ora no, anche perché appunto adesso per far parte di quel framework fiscale del 50% sulle disponibili devo restare almeno due anni qua quindi per i prossimi due anni mi trovate qua ma è un po' di stare in tante, ci sei stato un po' di anni sì infatti, no no ci sta no no ma qua mi piace di più posso già dirlo se dovessi mettere tutto assieme io direi innanzitutto sempre 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 pensate a quello che vorrete essere tra due anni, cinque anni la prossima vita quello che è e soprattutto mettere in secondo luogo la scelta di come lo faccio nel senso che genere di entità legale avrò sarà una start-up? sarò un freelance? farò il lavoro di dipendente? quello è la parte meno importante lo so che è sembra brutto da dire ma una maniera la si trova sempre la cosa più importante è che poi motiverà, sarà veramente sto facendo quello che mi piace e appunto in questa ottica non abbiate paura ad ammettere che si cambia nel senso fino a qualche anno fa mi piaceva fare una cosa adesso mi piace fare qualcos'altro molto banalmente adesso qua in Grecia a me piace moltissimo la storia mi sono messo ho aperto partita IVA perché faccio la guida turistica qua ad Atene e la prossima settimana in realtà comincio un nuovo lavoro da dipendente sempre qua ad Atene si cambia siate solamente aperti a voi stessi e a quello che volete fare e usate gli strumenti adeguati per imparare sbagliare sbagliare e poi la terza volta imparare bene ti ringrazio molto anche questo è un leitmotiv che ritorna molto spesso non esiste mai la soluzione giusta in assoluto ma esiste la cosa giusta da fare adesso per me dato che io potrò cambiare anche le cose da fare potranno cambiare esatto io in bocca al lupo per tutto se fai la guida turistica Atene è sicuramente un posto dove vale la pena venire e sfruttare i tuoi talenti per visitarla grazie mille ciao alla prossima grazie a tutti